Una fiorentina in mezzo a noi, in questa terra di Calabria, una terra che appartiene al sud, ma credo che dal punto di vista culturale ha tanto come la tua terra. Sì, allora oggi appunto ne parlavo anche con una ragazza del gruppo e dicevo comunque Firenze è la città conosciuta molto per la sua arte, per la sua cultura e tutto quanto, però appunto io mettevo in discussione il fatto che le persone quando arrivano a Firenze si limitano maggiormente a visitare il centro, che è il luogo appunto per eccellenza, mentre appunto io dicevo che la mia opinione è il fatto che se vai a visitare una città non ti devi soffermare soltanto sul centro storico, ma secondo me devi viverla proprio per un periodo, ovvero conoscere appunto anche quei luoghi che magari un turista potrebbe non nemmeno mettere in considerazione durante il viaggio, che ne so, anche dal bar più piccolo di quartiere appunto il centro storico che è la parte diciamo che i turisti vanno maggiormente a visitare. Siete stati a Capocolonna? Capocolonna? Ci siamo stati? No. Quindi non avete visto la colonna di Eralacinia? No, non l'abbiamo vista questa colonna. Ma al museo siete stati al museo di Crotone o quello di Capocolonna? Siamo stati al museo centrale appunto di Crotone, dove grazie appunto ad una guida ci ha un po' spiegato e ci ha fatto un po' rivivere appunto come erano soprattutto i riti nelle tombe degli antichi greci, cosa venivano messe e quant'altro. Non è grandissimo come museo, però è molto interessante perché appunto riesce a vedere nel territorio quello che è stato. C'è anche il diadema di Eralacinia? Sì esatto, che appunto la guida ci ha anche detto che è il punto forte, che è appunto bellissima questa corona d'oro che in questo diciamo museo magari uno non se l'aspetta, però quando vede quella dice cavolo, nel senso bello. Quindi l'esperienza di Libera ti piace? A me sì, anche perché ho già fatto un campo io di Libera a Firenze, che è stato appunto nel periodo del Covid e non era residenziale, però mi è piaciuto, io comunque Libera l'ho conosciuta grazie ad un'assemblea di scuola e quindi quando appunto sono andata a cercare quanti campi ci fossero di Libera, ce n'erano tipo 115 e passa, io ho visto tematico di Crotone e in Calabria ho detto scelgo questo.